Oggi ci troviamo nel parcheggio di Anconetta, proprio accanto al passaggio a livello e abbiamo incontrato questo cittadino che lavora qui e che lascia il suo furgone posteggiato in questo luogo che di giorno è un parcheggio di sera, sì è ancora un parcheggio però con delle ombre, sì le ombre della sera ma le ombre anche del degrado, è vero? Esatto, noi abbiamo anche segnalato che c'è bisogno di una ulteriore sorveglianza soprattutto notturna perché il servizio del parcheggio gratuito è ottimo per chi deve lavorare, prendere il treno, purtroppo di notte è alla disposizione di gente che non ha diritto a stare qua. Ci sono delle persone che si fermano, qualcuno purtroppo dorme in macchina e non è una colpa, abbiamo visto dei vetri rotti, bottiglie, cartoni della pizza e purtroppo qualcuno lo usa anche come bagno. Adesso da dieci giorni a questa parte là ci sono i vetri di un finestrino che è stato mandato in frantumi probabilmente per fare qualche furto sulle auto. Bene, noi di Retta Veneta registriamo questa segnalazione, la porteremo alle autorità competenti, ringraziamo questo cittadino per quanto ci riguarda, invece la questione non finisce qui ma continua.